Altro colpo di scena nella saga del vaccino AstraZeneca. Diversi paesi ne sospendono l'uso tra i più giovani. Le autorità di alcune regioni tedesche non lo inoculano più agli under 60 a causa di segnalazioni di trombosi. Ma c'è un collegamento tra il vaccino AstraZeneca e i coaguli nel sangue? Secondo uno studio potrebbe innescare una risposta immunitaria che soltanto in rari casi comporterebbe l'effetto collaterale letale. L'autorità di regolamentazione tedesca ha registrato 31 segnalazioni di trombosi. Nove di questi casi sono stati letali. Non sappiamo quale sarà la raccomandazione dell'Istituto Paul Henrich e cosa farà il Ministero della Salute. Perciò per precauzione abbiamo smesso di vaccinare sotto i 60 anni, ha detto l'assessore alla sanità di Berlino. Anche il Canada ha smesso di praticare AstraZeneca tra gli under 55, visti gli incidenti. I casi identificati finora si sono visti principalmente nelle donne sotto i 55 anni, sebbene siano stati segnalati anche casi negli uomini. Questi eventi si sono verificati fra i 4 e i 16 giorni dopo il vaccino. I paesi che hanno sospeso AstraZeneca per i gruppi di età includono Francia, Finlandia, Islanda e Svezia. Sentiamo un epidemiologo svedese. Raccomandiamo ancora una volta che il vaccino venga utilizzato per vaccinare persone di almeno 65 anni. In questa fascia di età non si sono visti gravi effetti collaterali che hanno fatto sospendere il vaccino poche settimane fa. Questi contrattempi pongono problemi non solo per AstraZeneca ma per i paesi che si affrettano a lanciare le campagne di vaccinazioni davanti a popolazioni recalcitranti. Sono state messe in discussione le raccomandazioni dell'Agenzia Europea per i Medicinali e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che aveva detto che i vaccini non provocano trombosi. Grazie a tutti.